Finanziamo anche oggi ulteriori 25 comuni. In parte sono comuni del Cratere e in parte sono comuni prevalentemente del Terramano, qualcuno del Pescarese e del Chietino. Mettiamo in campo circa 6 milioni di euro adesso e 30 milioni di euro che presenteremo venerdì prossimo del Ministero dell'Ambiente. La Regione spinge per la lotta al dissesto idrogeologico, come dichiarato nei giorni scorsi il Presidente Luciano D'Alfonso, ma nell'elenco dei comuni destinatari dei fondi regionali non c'è Sulmona con via Durati, che da tempo resta in lista d'attesa per i famosi 500 mila euro che dovevano servire anche lì per la lotta al dissesto idrogeologico dopo l'evento franoso che risale al 10 gennaio 2009 e da più di nove anni condanna l'arteria stradale a continui rischi e chiusure. Le intemperie e le piogge degli ultimi anni sicuramente non hanno agevolato la conservazione dell'arteria che sta cedendo man mano. Proprio a fine giugno si è resa necessaria la chiusura alle auto per evitare che il mando stradale possa subire altre alterazioni con tutte le conseguenze del caso per residenti e automobilisti. Era il 10 gennaio 2009 quando un buco si aprì sulla circonvallazione facendo franare nel degrado un intero quartiere residenziale della città e in particolare in via Filippo Turati, ribattezzata da chi ci vive via Franati, il tempo sembra essersi fermato a nove anni fa. Il quartiere limitrofo, la villa comunale, sprofondato nel più assoluto abbandono, è costituito per lo più da villette Liberty che affacciano su rastrelliere in ferro antiparcheggio, crollate in alcuni punti e puntellate in altri, con erbacce che le rendono ancora più pericolanti. Per la sistemazione di via Turati il comune di Sulmona stanziò con l'amministrazione Ranalli 110.000 euro che si aggiunsero ai 500.000 per il dissesto ideologico coperti dalla regione, ma dei fondi ad oggi nessuna traccia. Il progetto di riqualificazione è stato però inserito dall'amministrazione Casini nel piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020. A sollecitare fondi per il dissesto idrogeologico è stato recentemente proprio il comune di Sulmona, ma prima ancora è coordinatore d'Italica Alberto Di Giandomenico.